Poi ritorniamo nelle Marche a Camerano per un acquisto di vini presso la ditta Carletti Sauro a Colle Lauro dove i vini sono meravigliosi, il Rosso Conero la fa da padrone, amore e passione di Sauro che ormai si dedica completamente alla produzione e vendita di vini doc Grazie a tutti